Siamo in compagnia di Stefano Bombara, responsabile IT di Credito Agricola Assicurazioni. In un contesto in cui è imprescindibile il supporto dell'IT verso il business, quali gli step per adeguare infrastrutture e procedure per integrarle a processi applicativi e operativi, connettere gli elementi IT in ottica di interoperabilità? Buongiorno, per quanto riguarda la definizione di quelle che sono le nuove infrastrutture, i nuovi processi dell'IT, è necessario assolutamente modificare alcuni processi interni all'IT, quali ad esempio il demand, che deve essere in grado di rispondere in maniera veloce ed efficace alle richieste di tutti gli utenti. Devono essere impostate delle strategie di integrazione dei dati tra il back-end e il front-end, e deve essere reso il dato fruibile nella miglior maniera possibile, a tutti i livelli e in tempi molto immediati. Come fare per connettere gli elementi IT? Sicuramente bisogna rivedere la strategia di infrastruttura che le compagnie devono utilizzare, devono essere delle integrazioni il più possibile sicure, perché oggi non si può prescindere dalla sicurezza, devono essere delle integrazioni che garantiscono la qualità del dato e che lo mettano a disposizione per tutti gli utenti e per tutti quanti i processi nella miglior maniera possibile e nel minore tempo possibile.